A Bethlehem e anche in questo Natale c'è un pezzo di Torino, le vie di Natale, le pagine che uniscono solidarietà e fede in tutta la diocesi. L'incredibile scandalo che sconvolge l'Unione Europea e mina la credibilità della politica. Attualità, la conferenza di Parigi non ferma Putin mentre l'Iran sceglie la via del terrore. Cultura, che succede del nucleare in Italia ora che l'America trova forse la strada giusta. Tutti i libri che ci possono ridare serenità dopo tre anni di ansia. Chiesa, a Nairobi, la parrocchia di Torino raddoppia e anche lo spazio dei poveri. I sentieri e i percorsi dei presepi nella settimana di Natale, l'omelia dell'arcivescovo Roberto Reppole, il percorso saggio di chi vuole sposarsi in chiesa. Oratori, arrivoli, una originale attesa del Natale, Capodanno di Pace, Sermighe e Cotolengo insieme al Vescovo. Notizie da Mappano, Beinasco, Orbassano e Fiano. La voce, il tempo, l'altro giornale.